La nuova condotta idrica a Calatabiano tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate 2017, fino ad allora ai messinesi non rimane che sperare nella tenuta dei tubi provvisori o meglio che il fragile terreno al di sotto dell'acquedotto emergenziale posato nel novembre 2015 per far arrivare l'acqua messina non frani, nonostante si siano registrati già i primi segnali. La protezione civile regionale aveva annunciato con le parole del commissario Calogero Foti prima dell'estate 2015 l'inizio dei lavori di messa in sicurezza della collina per l'inizio di settembre, ma nonostante l'emergenza evidente i tempi si sono allungati e di molto, adesso si prevede l'individuazione della ditta che dovrebbe consolidare il versante a rischio entro i primi di novembre, poi sei mesi di lavori. Questo è il cronoprogramma a gara d'appalto, finalmente in corso, a conti fatti collina consolidata non prima di maggio. L'azienda meridionale Acqua di Messina ha già acquistato le nuove condotte metalliche ma non potrà interrarle fino a quando il rischio frane non sarà eliminato. Intanto si avvicina il primo compleanno della condotta emergenziale, progettata per durare appena tre mesi, giusto il tempo di realizzare la soluzione definitiva. Così era stato detto ai messinesi carichi di bidoni tra l'ottobre e il novembre 2015. Il presidente dell'AMAM, Leonardo Termini, si è limitato a dichiarare siamo in attesa ma il tempo è già ampiamente scaduto.